Buongiorno, ciao a tutti, sono Sergio Zanotti, siamo al ristorante Vecchino Milo di Montalanto Vana, bellissima location sul finannizio, stiamo preparando dei baccheri al ragù di anacra, al ragù di anacra abbiamo messo un soffritto di cipolla, sedola e carota all'inizio, soffritto carne macinata di anacra, ovviamente sussata e passata da macina carne, soffritto su cinque chili di macinato si fa con il litro di vino rosso, ovviamente erbe aromatiche di cui rosmarino, salvia, alloro, pioni di garofano, buoni brodo vegetale e pomodoro, il pomodoro a vostra scelta, a vostri crescimenti, il pomodoro mettete, il più sicuro sarà il ragù, il meno pomodoro mettete, il ragù, il risultato, il risultato, il risultato, il risultato. A me piace il suvoso, quindi carico un po' più, non lo so, adesso i baccheri sono quasi pronti, verranno messi nel ragù saltati e poi spiattati e poi ce li maniamo, ciao! Abbiamo messo la pasta, scolato la pasta, messo in padella, i baccheri, adesso facciamo saltare, ci diamo la fiamma, fiamma alta, burro sui brodo, citare, abbiamo aggiunto un po' di burro, poi c'è tutto, allora, lui vi legge a conto, non possiamo aspettare. Ciao a tutti, Sergio Zalotti ti saluta, ci vediamo al prossimo video su YouTube, con un'altra ricetta, ciao! Buono! Buonissime! Mmm, spettacolo! Provatelo! Ehhh, figlia di buco! Buonissime! 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 Grazie a tutti.